Buonasera, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Cos'è il clicker? È una scatoletta con una linguetta di metallo che emette un suono per richiamare il cane. Assolutamente no! Il clicker non è uno strumento per richiamare il cane, ma bensì per insegnarli delle abilità per migliorare il suo apprendimento. Serve per insegnare degli esercizi, siano essi semplici o difficili, basandosi sul condizionamento operante e sul rinforzo positivo. È uno strumento che consente all'utilizzatore, l'istruttore cinofilo, di confermare il comportamento corretto mediante il suono della linguetta e derogando il rinforzo, che inizialmente sarà del cibo. È uno strumento complesso e che richiede un'ottima formazione per il suo impiego. Proviamo a vedere il video di Ambra per capire che cosa sto dicendo. «Qu'è la vista?» 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 Terra 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 Terra